Ora abbiamo iniziato da 8 mesi a fare informazione in Sardegna con i giornali TV e radio. Stiamo iniziando a cambiare lo stato di mentalità. Noi abbiamo due tipi di messaggi che mandiamo sempre e sono separati. Abbiamo fatto l'elenco di quelle che sono le cose che uno pensa rispetto al curarsi all'estero oppure rispetto al dentista, rispetto alla categoria in Italia. Abbiamo fatto quello che invece dovrebbe pensare. E poi abbiamo detto, ok, come porto da A a B questo stato mentale? Serve sbloccare un lucchetto. Ognuno di quelle comunicazioni di 15 secondi che va a martellare per una settimana sblocca quel lucchetto. Dopo 6 mesi, 8 mesi che tu hai sbloccato quei lucchetti, le persone iniziano a guardare al fenomeno come da deridere, da combattere, da combattere, comunemente accettato. Finestra di Overton si sposta. Su, per esempio, 30 anni fa certi temi erano tabù. Poi è successo che possono essere accettati in casi estremi. Poi sì, è normale. Ora vado, per esempio, in un qualsiasi ambulatore in Italia, posso sedermi con di fianco il cagnolino. Qua è ancora tabù. Qua ti devi mettere le pattine in Moldavia. Verranno sdoganati. Come? Dipende dalla informazione che fanno i media. Le informazioni hanno il potere di cambiare la percezione riguardo a un qualcosa. Quindi chi non mi vede mai curare i pazienti? Perché io sono specializzato come dentista informativo. Conosco anche queste cose. So fare, vado in giro, raccolgo, faccio sperimentazione, creo i gruppi studio, metto insieme, connetto le persone in giro per il mondo con il nostro team, facciamo molta ricerca. Ora stiamo connettendo, per esempio, la settimana prossima sarò qua in... vi faccio vedere la CADSkills. La CADSkills che è l'unica start-up che c'è in Europa, che fa, per esempio, ricostruttiva, qualcuno di voi l'ho fatto vedere, della... a livello, ecco, di design degli impianti dentali. Perché quando ci sono casi, addirittura, di chirurgie terziarie, dove anche le chirurgie secondarie, come il naso di Michael Jackson, no? Chi ci mette le mani dopo è sfortunato. Ok? Perché deve essere... deve usare tecniche che in prima chirurgia non vanno bene. Cioè, le tecniche di prima chirurgia non vanno bene nella seconda chirurgia. Gli impianti dentali vanno bene, quelli classici quando c'è molto osso, quando c'è poco osso vado con quelli zigomatici. Se però c'è un tipo di zigomo che manco lì posso attaccarmi, l'unica cosa che rimane sono questi tipi di protesi che si usano, avvitate sopra il mascellare. Le fanno in pochissimi nel mondo, in due, noi saremo i terzi e portiamo qua questa start-up per fare grandi cose, ok? Se non ti muovi, da soli non... le cose non succedono. Serve muoversi, serve bocciato. Sarà un grande, sono i rio di New York. I rio di New York, cazzo. Domani viene accompagnato con la moglie. Comunque, tornando al discorso dei fatti, un giorno arriveremo, ma un po' di anni. Se ti chiamo, ti mando la tac di mia moglie e mia sorella, tu mi mandi il paio a Milano, mi mando il regalo di Natale. Eccolo qua, fatto, prodotto. Ora, con questi tipi di tecnologie che sono, vedete qua, questa è una stampante laser, l'avete vista stamattina, ok? Questa qui, paro, paro, con le stampanti è possibile fare produzione personalizzata. O compro gli impianti tutti uguali e li metto solo a quella tipologia di pazienti, oppure se io mi devo fare da me gli impianti, le ruote, lo sportello, ho bisogno di una stampante che me lo fai, di un designer. Il futuro nostro è passare da riabilitazioni estreme della bocca, grazie al fatto che non abbiamo reti commerciali, grazie al fatto che possiamo decidere quello che fare, che non lavoriamo con l'asle, andare sempre più verticali. Togliamo ancora più foglie al menu, proprio lo eliminiamo. Da noi si fa solo ricostruzione, centro ricerca per la ricostruttiva bionica della bocca. Bionica, dove a un certo punto andiamo a ricostruire anche parti della bocca, cose sempre più complesse. E questo lo facciamo, non lo possiamo fare da soli, dobbiamo andare con start-up, che già fanno questo, se vogliamo andare veloci. Poi sarò in India a maggio, per dopo la... anzi, devo andare prima in Germania da loro. Dopo devo andare a Padova, con il fratello, il professor Conte, che ha la Isomet, che ha una fabbrica di impianti dentali, e cercare di fare gruppo per aprire qua, con chi ha i designer, con chi ha esperienza di linea di produzione, con chi ha anche i pazienti, aprire il centro produzione di bocca bionica, che... lui non dorme per realizzarlo. Ok, nel senso, lui è il burocrate, noi non ci vedete, ma stiamo già in fase avanzata, stiamo. Ok, il progetto è avvenieristico, è un qualcosa di veramente avvenieristico, di iper, iper, iper. Vediamo se... Dove c'è l'ho? Andiamo, immagini. Ok, questi saranno i nostri spazi. Questo è il tipo di clinica che sarà. Ok, andiamo alla ricostruzione con impianti personalizzati, su pazienti che sono mutilati, pazienti che hanno fatto incidenti stradali, quindi traumatici, pazienti che sono oncologici, ma lì ci servono impianti personalizzati, dove neanche gli zigomatici più riescono. Quanti centri ci sono così al mondo? Zero, neanche Malò. Perché Malò, ricordate, ritornate qualche passo indietro, è all on four, all on six. Ma deve avere tutti gli impianti. Deve avere, ok. Per fare questo, occorre gente che non sta tutta a Chisci, Non li trovi tutti a Roma, non li trovi tutti a Milano, sono pochi centri ricerca, perché si tratta di centri ricerca, non di che vanno, tutte connesse queste persone. Mi servono i designer, mi servono i produttori, chi è bravi macchinisti, quelli che fanno poi l'installazione, la produzione, controllo dei processi. Oggi c'era un paziente, stava qua prima, che mi ha fatto vedere delle aziende, che per esempio fanno le linee di montaggio, le robot, che ci servirà anche quello, perché poi vanno tutti processati, non solo nel design, ma devono passare tutte le fasi di decontaminazione, devono essere idrofilici, il titanio deve essere, come dire, implantabile. Ok, non è che faccio del titanio e te lo metto nel corpo. No, ci sono dei processi, delle certificazioni, che bisogna passare. Si tratta di protesi su misura, è come quando si vedono, che ne so, la ricostruttiva dei gemellini, sia mesi attaccati. Ok. Parliamo a livello odontoiatrico di quel genere di chirurgie, non sono chirurgie di appendicite, non sono chirurgie, che ne so, di alluce valgo, si tratta di chirurgie complesse, che so poche nel mondo, sparse, ma vanno tutte convogliate in quel centro. In quel centro ci sono equip, che lavorano con designer, progettano, come facciamo noi, coexocad prima, la chirurgia, poi si fa il modellino, si esegue sul modellino, poi si replica. Apri 5 minuti, un ninja, uh, uh, ha, fatto, e chiudi. Perché l'hai già eseguito prima. Ok. Sono tipi di chirurgia ancora più avanzate.